Momenti di grande paura in via Mangioni a Pagani, dove ieri in serata il sottotetto in legno di una palazzina di nuova costruzione ha preso fuoco. Le fiamme hanno mandato il traffico in tilt, viabilità interdetta nella strada interessata. Il vento ha reso ancora più difficile le operazioni di spegnimento per i vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sarebbero feriti tre residenti, escluso uno dei vigili del fuoco, intervenuti sul luogo e prontamente condotto in ospedale. Super lavoro per la Polizia Municipale, i vigili del fuoco e il gruppo di protezione civile. Presente anche il sindaco Salvatore Bottone e alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale.